buongiorno a tutti allora 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 dopo le news arrivano naturalmente le call news call news interessanti curiose di argomenti diversi come sempre partiremo con un corpo celeste giovane che quando ho letto l'età io mi sono sentito little little giovane e c'ha quell'età lì noi che arriviamo se ci va di fortuna a 100 ma proprio in casi proprio iper fortunati ma sorvoliamo poi parleremo di un film del 1992 che è diventato una serie tv che è piacevole da vedere su prime video è uscita il 12 agosto del 2022 da tanti film poi nascono le serie dai telefilm ci sono gli spin off non sanno più cosa cosa inventare poi parleremo di una scoperta archeologica in romania poi dopo la scoperta archeologica in romania parleremo di mare profumo di mare nel senso che c'è un questo questa nave la chiamano la nave dell'oro e ne parleremo di questa nave dell'oro di cosa hanno scoperto eccetera eccetera perché c'è un motivo perché la chiamano così ma ne parleremo ma partiamo subito con questo corpo celeste che dati alla mano degli scienziati a solo 1,5 milioni di anni e lo definiscono giovane infatti un team di scienziati della nasa e dell'esa ha scoperto il pianeta più giovane della nostra galassia nato solo 1,5 milioni di anni fa e io mi sento un little little perché veramente sinceramente noi arriviamo ve lo detto giovani siamo fino ai 30 anni poi dai 30 ai 60 per altri 30 anni c'è chi si definisce maturo chi si definisce già anziano io mi definisco diversamente giovane poi dai 60 in poi è terza età eccetera eccetera ma io mi definirò non so come ma non certo maturo probabilmente si fa per dire perché come cantava morandi e no non morandi ma come cantavano bobby solo e il grande little tony tanto non si cresce mai va bene proseguiamo si tratta di un'età molto ridotta in termini astronomici un milione e mezzo di anni per loro è ridotta basti pensare che il nostro pianeta di anni ne ha ben 4 miliardi e io quando leggo queste cifre rimango basito perché penso che l'umanità o comunque l'uomo 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 sapiens quello che è cos'era intorno ai 100 avanti 100 mila avanti 100 mila anni fa 80 mila 60 mila 50 mila qua parlan di 4 miliardi comunque proseguiamo a rendere nota la scoperta è il giornale astrophysical journal letters che descrive il pianeta come il più tra virgolette recente mai individuato è come guardare il nostro passato ha spiegato al new york times miriam benisti esperta dell'istituto di planetologia e astrofisica di grenoble in francia e coautrice della ricerca per l'individuazione del corpo celeste gli scienziati hanno usato il telescopio alma atacama large large millimeter submillimeter array perché sapete che di telescopi ne abbiamo una marea e ogni volta ognuno è una guerra tra uno e l'altro a chi ne scopre più pianeti comunque dicevamo ho scoperto il pianeta più giovane della galassia la stella di riferimento prende il nome di as 209 chiamarla franco enrico giovanna francesca enrica no è as ab ac ad e f y 2 per 4 diviso 6 per 1 e vabbè as 209 ed è avvolta da un disco circomplanetario un anello di polvere gas da cui si potrebbero sviluppare satelliti e altri oggetti gli astronomi hanno scoperto inoltre che la stella ha cominciato da poco a bruciare idrogeno un elemento che conferma l'età tra virgolette giovane della stessa vabbè un milione e mezzo è giovane un milione e mezzo di anni è giovane come mi sento vecchio come mi sento piccolo boh noi no noi 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 arriviamo a forse ci va di culo a 100 vabbè passiamo a questo film anzi a questa serie tv ispirata al film ispirato dall'iconico film del 1992 ragazze vincenti arriva è arrivato su prime video lo scorso 12 agosto 2022 sappiamo queste sono col news quindi sono col news di agosto e non sono col news di adesso quindi dal 12 agosto del 2022 è arrivato su prime video qualcuno magari l'avrà già visto alla league of their own la serie incentrata sulla storia degli albori dell'all american girl professional baseball league campionato tutto o quasi al femminile nato durante la seconda guerra mondiale per sopperire all'assenza degli uomini impegnati nel conflitto in europa che è stato giocato tal 1943 e il 1954 quindi nonostante la guerra fosse finita da po di anni la liga è rimasta fino al 54 la squadra protagonista della serie è quella delle rock for peaches che può vantare una delle formazioni più tenaci del campionato capace di superare numerose incertezze e difficoltà arrivando addirittura a colmare alcune lacune tecniche con forza e determinazione tra le giocatrici principali ci sono carson show greta gill e lupe che come tutte le altre della formazione sono donne dall'incredibile personalità tale da creare dinamiche particolari all'interno del gruppo di giocatrici conciliando in modo non sempre lineare la vita familiare domestica degli anni 40 ricordiamoci siamo negli anni 40 a quella sportiva intorno a questo gruppo di donne tutte bianche come dal regolamento dell'epoca si muovono altri preziosi personaggi come maxine e clans che completano il racconto con scene di vita lavorativa e familiare dell'america nera del tempo gli otto episodi che compongono la prima stagione si articolano grazie a questi personaggi alternando storie personali e racconti di sport senza perdere occasione per esplorare anche possibili risvolti romantici delle protagoniste cercando di approfondire la riflessione su una sessualità repressa e molto irrigidita dalle pressioni sociali e league of their own il finale di ragazze vincenti la serie tiene aperta la porta per ulteriori sviluppi della serie sebbene ancora non si abbia notizia certa del rinnovo della serie per una seconda stagione ma siamo ad agosto quindi magari adesso potrebbe anche arrivare o essere già arrivata vedremo se magari nelle future call news settembre ottobre novembre dello scorso anno ci sono novità o magari mi arriva adesso il finale di league of their own lascia tutte le porte aperte a possibili ulteriori sviluppi certo allontanandosi ancora di più dalla storia reale da cui prende spunto le differenze sono già numerose tra la storia e quella narrata dal film del 1992 ragazze vincenti diretto da penny marshall e con protagoniste gina davis e madonna oltre a tom hanks e altrettanto sono le variazioni sul tema intervenute tra il film e la serie senza dubbio la volontà di will graham e abby jacobson i creatori di league of their own è nettamente improntata nell'avvicinare il racconto di ormai 80 anni fa ai tempi contemporanei soprattutto per quanto riguarda la risvolta amorosa e sessuale la serie tenta di esplorare non sempre riuscendoci le difficoltà di una vita intima imbrigliata da pressioni sociali e paure che ben poco ha in comune con la liberazione dei decenni successivi e con la situazione attuale il cast salva ragazze vincenti la serie e league of their own andiamo a proseguire nella recensione house in questa operazione di avvicinamento al mondo contemporaneo e league of their own rischia in più punti di effettuare voli pindarici poco credibili e senza dubbio poco aderenti alla realtà dal toccanto le prestazioni attoriali delle protagoniste si dimostrano perfettamente in grado di supportare alcuni scivoloni garantendo insieme a una discrita scrittura una buona fluidità di racconto anche considerando la durata della stagione otto episodi di un'ora ciascuno se tanta attenzione è stata rivolta al trattamento tematico di alcuni temi tematico temi ma va bene alcuni altri elementi si sono affidati a uno stile sicuro e consolidato è il caso soprattutto di montaggio e fotografia che non hanno fatto deviazioni rispetto a una grammatica scusate devo girare perfettamente prevedibile e anche rassicurante nel suo complesso quindi e league of their own non è una produzione particolarmente innovativa né tanto meno rivoluzionaria ma si assicura che i punti centrali del suo discorso tematico vengano recepiti subito e velocemente diciamo che stavolta cinematogra.it è stato più buono non è stato cattivello come per carnival crow che sono andati giù pèm con la mannaia e l'hanno stroncato andiamo a vedere cosa hanno ritrovato in romania il ritrovamento avvenuto nel distretto di bihor bihor crisana in romania la scoperta è stata fatta durante i lavori di costruzione di una nuova strada che collega la città di oradea con l'autostrada a3 gli scavi sono stati condotti da un internazionale che rappresenta istituzioni di tutta la romania e l'ungheria rivelando tre siti del periodo neolitico due della media e tarda età del bronzo due del periodo romano e due siti del medioevo quindi tre ere ben distinte in un comunicato stampa annunciato dal museo tari crisurilor gli archeologi che scavano vicino a biharia hanno trovato la tomba di una donna appartenente alla cultura tizzapolgar tizzapolgar spero di averlo pronunciato giusto non picchiatemi la cultura di tizzapolgar era presente in quel periodo nel periodo 4.500 4.000 avanti cristo fu una cultura una fu una cultura archeologica e neolitica della grande pianura ungherese del banato di crisana e della transilvania della slovacchia orientale e dell'oblast di zakarpattia ucraina in europa centrale quindi tutta quella zona lì del centro est europa ecco per intenderci il dottor khalin gemis del museo tari crisurilor che ha guidato il team ha descritto come la donna è stata sepolta con 169 anelli d'oro che adornavano i suoi capelli insieme a un braccialetto di rame a più spirali due perline d'oro e circa 800 perline fatte di osso sulla base di uno studio iniziale dei denti e della statura della defunta si ritiene che la sepoltura fosse di una donna di alto rango con tutta la roba che aveva nella bara o nel quello che che la conteneva ciò è ulteriormente supportato dalla mancanza di armi normalmente associate alle sepolture maschili della cultura tizzapolgari i campioni sono stati inviati a laboratori in romanie nei paesi bassi per ottenere una datazione più accurata attraverso un'analisi al carbonio 14 oltre al campionamento del dna e ulteriori studi antropologici all'interno degli scavi più ampi del progetto il team ha anche trovato tracce di due abitazioni vicino alla città di sant'andrei che contenevano ceramiche del secondo secolo avanti cristo fino al secondo secolo dopo cristo il team ha anche trovato un insediamento sarmatico del terzo e quarto dal terzo al quarto secolo anche vicino a biaria è uno scheletro femminile seporto con diversi oggetti di gioielleria della necropoli dell'insediamento quindi terzo e quarto secolo si intende dopo cristo perché se no mi dicevano quarto terzo secolo perché si sapete benissimo avanti cristo si va indietro dopo cristo si va avanti bene ogni tanto salta fuori sempre qualcosa di nuovo qualche che ci può regalare delle curiosità su come vivevano gli antichi sempre cose nuove sempre cose curiose interessanti eccetera ma andiamo a vedere qua questa nave recuperati una foto di una misteriosa donna un lingotto d'oro da un milione di dollari minchia e un paio di jeans forse realizzati dallo stesso levi strauss soprannominata la nave dell'oro un valore stimato del solo oro equivale a circa 100 150 milioni di dollari la nave trasportava 578 passeggeri ed equivapaggio 425 dei quali perirono nel neofragio del 12 settembre 1857 a largo della costa della carolina del sud in un organo di categoria 2 solo 153 passeggeri per lo più donne e bambini sopravvissero i loro effetti personali creano una rara immagine storica della vita americana poco prima della guerra civile questi rari oggetti storici sono stati esposti per la prima volta nel mese di agosto scorso una settimana dopo la loro scoperta alla national antique bottle convention di reno il sito s.ss central america è una capsula del tempo accidentale e come tale è uno sguardo al passato ha detto bob evans capo scienziato e storico della collezione uss central america un paio di pantaloni di tela sono stati trovati in un che un tempo apparteneva al tenente de ment un veterano della guerra messicano americana e passeggero sulla nave evans ha detto che i pantaloni potrebbero essere stati il lavoro originale di levi strauss l'inventore dei jeans diverse fotografie di daguerro tipo erano anche in mostra alla convention tra cui la monnalisa of the deep una donna con un abito di pizza e capelli ricci la donna misteriosa che non è stata identificata sfogge un sorriso simile a quello del famoso dipinto da cui da qui il soprannome sulla quadretto di leonardo che uno pensa che il quadro di leonardo sia una roba enorme invece un quadrettino proprio piccino picciò non per niente quello che se l'era rubato l'italiano che lo voleva riportare in italia se l'ero messo sotto braccio proprio perché non è una roba enorme ma che cosa sono i daguerro tipi sono una delle prime forme di elaborazione fotografica e sono stati creati utilizzando una lastra argentata sensibilizzata allo iodio e i vapori di mercurio la mostra vantava anche bottiglie di vetro per whisky e vino la chiave della sala del vino insieme alla sua etichetta in ottone sono stati trovati in una cassaforte erano esposte anche una fondina per una grande pistola fiaschi di polvere di ottone un corno di polvere e altri accessori per armi da fuoco che sono stati trovati sul relitto l'affondamento degli stati uniti in america centrale era considerato una grande tragedia umana e finanziaria all'epoca l'oro valeva 8 milioni di dollari all'epoca e la sua perdita contribuì al panel finanziario del 1857 che paralizzò l'economia americana i manufatti in mostra sono stati conservati in tre diversi stati maryland massachusetts e ohio fino a quando non sarà raggiunto un accordo approvato dal tribunale che porrà fine a una disputa generale decennale sulla proprietà bene 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 vi ho parlato anche di questa nave qua che è affondata e in effetti quando ho visto la storia del degli stati uniti d'america con banditi jesse james billy the kid toro seduto e caster eccetera 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 c'era anche tra le cose le crisi finanziarie e parlarono anche di questa crisi qua dovuta all'affondamento di questa nave che mandò in tilt tutto quanto oltre al fatto che quelli che stavano costruendo la la ferrovia avevano fatto i furbetti no avevano alzato i costi eccetera eccetera si erano fatti stra pagare per fare appunto questa questa ferrovia e quant'altro e quindi anche lì è successo un rebelò perché ci sono resi conto che e quindi la società che stava costruendo gli hanno detto ciccio tu hai alzato troppo i prezzi i prezzi rendici soldi che hai preso lui ha detto no reinvestiti quindi casini mica casini e problemi economici va bene lasciamo perdere l'ho visto al volo l'ho visto al volo era un documentario più altrimenti interessavano le questioni jesse james billy the kid non so se hanno fatto in tempo anche a vedere poi caster gli errori di caster che ha voluto fare un fenomeno e vabbè sorvogliamo sorvogliamo ragazzoli concludiamo qua la nottatona del gigione con queste notiziole con news libidini e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao